Continua l'impegno del Comune e della Sovrintendenza ai beni archeologici per la pulizia dei siti storici napoletani. Questa mattina è partita infatti la pulizia delle mura greche di Piazza Calenda. Nato dall'idea e dallo stimolo dei ragazzi del progetto Sottosopra di Save the Children e grazie al protocollo d'intesa tra Palazzo San Giacomo e la Sovrintendenza, i lavoratori della cooperativa 25 giugno, già impegnati ogni lunedì mattina nella pulizia delle mura greche di Piazza Bellini con la collaborazione di Asia, da questa mattina hanno cominciato i lavori di pulizia delle mura e del sito archeologico della storica piazza di Forcella, dal quale sono stati rimossi e raccolti i rifiuti indifferenziati e ingombranti che deturpavano il sito. I soci cooperatori della cooperativa 25 giugno che sono dei lavoratori che agiscono in un progetto che si chiama Decoriamo Napoli che prova in tutti i modi a far condurre insieme a noi una battaglia contro l'incurio e l'inciviltà e per rendere la nostra città sempre più bella. Il nostro auspicio è che una volta ripulite non doverci più tornare perché saranno i cittadini stessi ad assumere un atteggiamento responsabile e a tutelare e rispettare i monumenti, le bellezze delle nostre città. Noi lo stiamo facendo e lo faremo anche in altre parti della città, ma credo che questa sia una scommessa che vinciamo insieme.